Ben tornati su www.infocorsi.it Oggi faccio un video pubblicitario, chiamiamolo così, perché voglio presentarvi il corso CDL Advanced che appunto teniamo in questa scuola ed in particolare il corso Advanced di Word. Dovete sapere infatti che i corsi per il conseguimento della certificazione CDL Advanced sono 4 uno per il Word, uno per l'Excel, uno per l'Access e uno per il PowerPoint. In seguito certamente provvederò a fare altri filmati per gli altri tre, ma oggi presentiamo Word Advanced. Lo scopo di questo video è quello di rispondere a molti miei clienti che mi hanno chiesto quali fossero le informazioni in più che si riescono ad imparare sul Word rispetto a quello che si è già fatto magari nel corso di base o che si è riusciti ad imparare da autodidatta. Di conseguenza oggi vi presenterò alcune funzionalità, certamente non tutte, di quelle che spieghiamo nel programma del corso CDL Advanced AM3, cioè Advanced Module 3, ossia il modulo 3, quello del Word. Vado su File Nuovo perché la prima cosa che voglio presentarvi è quella della gestione avanzata dei modelli. Quindi ripeto, ho cliccato File e poi Nuovo. I modelli, forse già lo sapete, si vanno ad aprire da modelli generali. Ce ne sono una marea, quindi per esempio se vado a cliccare qui su altri documenti, ci sono quelli per i curriculum, eccoli qua. Se clicco la scheda lettere fax, ci sono quelli per la creazione di fax o per la creazione di lettere commerciali. Tutti modelli predefiniti, ossia già presenti nel Word, già creati da Microsoft. Ma il mio scopo è quello di farvi notare che si possono creare anche modelli personalizzati, come questo che ho creato io oggi, carta intestata. È un modello in cui ho deciso di impostare un foglio di un ipotetico studio legale di carta intestata, e quindi praticamente avrò modificato i margini, ho scritto delle informazioni nell'intestazione ed anche nel piedipagina. Cose che dovrei fare ogni volta che devo scrivere magari una lettera o fare una fattura o altre informazioni che hanno bisogno dell'intestazione, e invece inserendo nel modello queste cose non vanno ripetute più volte, ma basta richiamare il modello. Intanto, ripeto un attimo il comando, quindi qui chiudo, vado a cliccare inizialmente File, Nuovo, poi qui in basso vado a prendere Modelli Generali, e dopo Modelli Generali seleziono nella scheda generale il mio modello, quello che io ho creato, si chiama carta intestata. Quando clicco OK, viene creato un nuovo documento. Questo nuovo documento, come vedete, si chiama Documento 2. Ora ne adeguo un attimo lo zoom per vederlo meglio. Ed ha i margini personalizzati, qui c'è un margine sinistro di 3 cm, anche il margine destro è stato modificato, anch'esso ha 3 cm, il margine superiore anch'esso è stato personalizzato, perché c'è un'intestazione piuttosto corposa. Questa intestazione ha un logo, il nome dell'ipotetico studio legale, e anche una data autoaggiornata. In più, se scorro verso il basso e guardo nel piedipagina, anche qui c'è per esempio l'indirizzo, nonché il numero di telefono, sempre dell'ipotetico studio legale. Ritorno su, l'interessante è che io posso quindi scrivere in questo foglio che è sì vuoto, ma è già predisposto con i miei gusti, quindi vabbè adesso gentile cliente, poi potrei continuare la lettera, mi fermo qui, quindi scrivere tutto il testo già con i margini miei preferiti, già con la mia intestazione e con il mio piedipagina. Ripeto, è un nuovo documento, non ho aperto un documento già salvato, è un nuovo documento che è stato generato partendo dal mio modello personalizzato. Ora infatti posso andare a salvare questo, lui mi propone di salvarlo come vedete nella cartella documenti, io lo salverò con un nome a piacere, chiamiamolo per esempio affitto, supponendo che si tratti di un contratto d'affitto che ho scritto, e vado a cliccare su salvano, quindi adesso questo documento non si chiama più documento 2, ma si chiama affitto.doc per il fatto che l'ho salvato. Io posso ancora usare il comando dei modelli, quindi file nuovo e poi qui sotto modelli generali e scegliere ancora carta intestata, dando ancora ok ed in questo caso mi viene creato ancora un nuovo documento che si chiama documento 3, e quindi è un nuovo documento vuoto, ma già con l'intestazione, già con i margini personalizzati, già con il piedipagina, e il bello è che questo ovviamente non è andato assolutamente ad intaccare quello che avevo fatto prima, cioè affitto.doc, potete vedere come i due documenti entrambi aperti adesso, il documento 3 che è nuovo non è ancora stato salvato, e invece affitto.doc che ha già subito l'operazione di salvataggio, siano entrambi documenti basati sullo stesso modello, ma sono documenti diversi e ne posso creare quanti ne voglio, tutti con la mia brava intestazione e con la mia brava impaginazione. Ora chiudo questi e passiamo ad un altro argomento, perché poi oltre ai modelli vi voglio presentare la gestione avanzata degli stili, anche gli stili sono una cosa che magari uno già conosce, vado ad aprire un documento adesso che ho preparato già prima per mostrarvi questa cosa, ecco qui, si trova qui dentro, il documento si chiama Prova Stili, lo apro, adeguo sempre lo zoom per avere una più chiara visuale, e come vedete si tratta di un documento diciamo abbastanza lungo, sono 5 pagine, questo lo possiamo leggere qui sotto, diviso in vari capitoli e paragrafi, come vedete, ad esempio qui c'è il capitolo open source, dove appunto questo titolo usa lo stile titolo 1, lo potete vedere qui sopra, lo stile titolo 1, che poi è lo stesso stile usato anche per il capitolo storia, mentre poi ci sono dei paragrafi come questo, che invece utilizzano lo stile titolo 3, e così se scorro ancora in basso per il resto del documento, ad esempio qui la nascita del software proprietario è sempre formattato con lo stile titolo 3, e così via, scorrendo ancora giù, così via. Ora in questo non c'è nessuna novità, tutti, anche gli utenti meno avanzati, sanno usare gli stili, ma quello che magari non si conosce è la possibilità di personalizzare questi stili in maniera che funzionino in una maniera più versatile, ad esempio, adesso che prima di mostrarvi questo file avevo personalizzato lo stile titolo 1, mi basta annerire uno qualsiasi dei paragrafi formattati con questo stile, per poi decidere di andare magari a cambiarne il colore, o qualsiasi altro tipo di informazione, e ottenendo questo cambiamento non solo su quel titolo che avevo evidenziato, ma anche su tutti gli altri che hanno lo stesso stile, e guardate la parola storia, anche essa, pur non avendola annerita, è diventata fucsia, perché avendo anche essa lo stile titolo 1, si è adeguata, si è aggiornata rispetto alla modifica che avevo fatto per il titolo open source. Scorrendo ancora un po' in basso, mi accorgo che la condivisione del software, quindi questo paragrafo, è in titolo 3, ma più sotto ce ne sono anche molti altri, come questo, o come quest'altro, che utilizzano lo stesso stile, sempre titolo 3, va bene? Quindi io posso, per esempio, annerire questo, mettere il corsivo oltre al grassetto, aumentare la dimensione del carattere, ecco qui, poi posso mettere l'allineamento centrato, e anche cambiare il colore, quindi ho fatto vari comandi di formattazione, ecco qui il risultato finale ottenuto, ma il bello è che non è cambiato solo questo, se torno su, tutti i paragrafi, ecco guardate questo, tutti i paragrafi che avevano lo stile titolo 3, quindi tutti questi titoli, sono stati adeguati a quello che io ho modificato, anche ovviamente scorrendo verso il basso, ecco qui, quando trovo altri paragrafi che hanno lo stesso stile, ecco qui ce ne sono ancora altri, sono tutti stati aggiornati, questo anche se ho 300 pagine, tutti gli stili titolo 3 sono cambiati diventando blu in corsivo, 16 come dimensione del carattere, ed allineamento al centro, molto importante questa cosa quando scrivo dei documenti lunghi, come può essere per esempio la mia tesi di laurea, piuttosto che una relazione per il lavoro o un libro, perché io non devo stare a modificare, quando cambio idea su una formattazione, a modificare manualmente tutto, mi basta cambiare uno solo dei titoli di paragrafo, di capitolo, o delle didascalie, o qualsiasi altra cosa abbia utilizzato, perché vengano cambiati tutti, per fare questo è necessario conoscere la personalizzazione degli stili, ed è un altro appunto degli argomenti che spieghiamo nel corso Advanced, passiamo ad un'altra cosa, le macro, anche le macro sono un comando avanzato, che quindi va spiegato nel corso Advanced, vado ad aprire questo file, e ad attivare la macro che avevo precedentemente salvato in questo documento, adeguo la visuale, qui in pratica ho creato una macro, una macro è un macro comando, che vuol dire macro comando, vuol dire che si tratta di una sequenza di comandi semplici, che sono stati registrati in un unico macro comando, e quindi potranno essere utilizzati più rapidamente, senza una ripetizione noiosa di questi comandi, tra l'altro in questo caso la macro che ho creato, l'ho chiamata trasformazione, e l'ho anche posizionata qui sulla barra degli strumenti, in maniera che sia facilmente accessibile, in pratica in mezzo a tutti questi altri, che sono comandi già del Word, ne ho aggiunto uno mio, uno personalizzato, questo è la macro, un comando personalizzato creato da me, e quindi la macro in questione, adesso ma è solo un esempio, serve per trasformare una qualsiasi tabella, io la proverò su questa, ma funziona su qualsiasi tabella, in una tabulazione, cambiandone anche la formattazione, quindi ripeto, la macro che ho chiamato trasformazione, trasforma le tabelle in tabulazioni, e poi anche modificandone l'estetica, mettendo ad esempio un colore, un tipo di carattere particolare, e così via. Mi basta quindi annerire, e invece di dare tutta la sequenza di comandi, quindi la conversione in tabulazione, l'applicazione del colore, l'applicazione del carattere, e così via, vado a cliccare solo qui, trasformazione, e infatti la tabella si trasforma, questa è una macro, vedete? Sono vari i comandi che ho dato, perché intanto potete guardare sul righello, che non è più una tabella, ma è una tabulazione, il carattere è diventato a dimensione 18, il colore è diventato blu, e c'è anche un'ombreggiatura, che magari adesso non si nota, ve lo faccio vedere qui, formato carattere, ecco qua, come vedete ho anche applicato un'ombreggiatura, tutto questo l'ho fatto con un solo comando, che avevo registrato in precedenza, e quindi nel momento in cui desidero rifare questa scelta, sequenza più volte, non c'è bisogno di ripeterla, ma uso la macro che ho creato, e che ho posizionato sulla barra degli strumenti, anche questa è una cosa molto importante da imparare. Andiamo ancora avanti, perché l'altro esempio che voglio farvi, è quello della generazione automatica dei sommari, sempre un comando avanzato di Word, qui è sempre lo stesso documento, che però ho impaginato in una maniera un po' diversa, c'è il capitolo open source in prima pagina, poi scorrendo verso il basso, alla seconda pagina c'è il capitolo storia, che ha i suoi vari paragrafi, ci sono sempre gli stili qui utilizzati, quando vado all'ultima pagina, eccoci che è pagina 6, c'è in pratica un sommario, attenti, questo sommario non l'ho scritto io a mano, ma è stato creato automaticamente dal Word, con un apposito comando. Il bello è che il sommario sarà sempre aggiornabile, nel senso che io creo il sommario quando ho finito di scrivere, ma poi se faccio delle modifiche al testo che ho scritto, anche il sommario si aggiorna. Vediamo come. Torniamo per esempio a pagina 2, dove c'era il capitolo storia, eccoci. Mi posiziono accanto al titolo storia, e lo modifico, dicendo storia del software, ad esempio, va bene? A questo punto faccio anche un altro cambiamento, continuo a scorrere un po' verso il basso, mi posiziono prima del titolo la nascita del software proprietario, quindi in questa posizione, ed inserisco un'interruzione di pagina, quindi clicco inserisci, interruzione di pagina, ok, questo mi consente di avere in pratica, di far scalare questo paragrafo alla pagina successiva. Poco fa si trovava qui sopra, a pagina 2, e invece adesso abbiamo lasciato tutta questa paginetta bianca e andato a pagina 3, grazie all'interruzione di pagina. Ovviamente adesso, quindi se questa è pagina 3, la stessa modifica deve rivedersi anche nel sommario, io scorro in basso, il sommario chiaramente non è più a pagina 6, ma è a pagina 7, perché tutto è scalato, però purtroppo qui ancora non si vedono gli aggiornamenti, il titolo non è stato aggiornato, la nascita del software proprietario risulta ancora posizionata a pagina 2. Devo fare però, tasto destro, aggiorna campo, aggiorna intero sommario, ed ok, e come per magia, intanto qui, storia del software, è stato aggiornato, ed in più, la nascita del software proprietario risulta essere a pagina 3, non più a pagina 2, come anche il sommario risulta a pagina 7, anziché a pagina 6, tutto si è aggiornato, tutto è scalato, anche questa è una cosa importantissima, perché io non posso, ogni volta che faccio delle modifiche ad un testo lungo, riguardarmi tutta la stampa, e ricorreggere manualmente, i numeri di pagina sul sommario, deve essere una cosa gestita automaticamente, e anche questo si studia nel corso avanzato. Come ultima cosa, voglio mostrarvi, quindi vado ad aprire un altro file, due funzionalità, intanto la possibilità, di proteggere con password, un file di Word, ed in più, la possibilità di creare dei moduli, cominciamo con il discorso della password, quindi apro questo file, che non si apre, finché non comunico a Word, la password di apertura, in pratica, serve questa cosa, quando ho dei documenti, che contengono dei dati riservati, che non voglio far leggere, a persone non autorizzate, infatti, solo se, vado a digitare la password, si aprirà il documento, provo a cliccare ok, ed ecco che ora si apre, molto importante questa cosa della password, in più adesso, questo documento, è un modulo, in questo caso già compilato, ma ora vado a cancellare il contenuto, per mostrarvi come dovrebbe essere, prima della compilazione, quindi cancello tutto il contenuto, ecco qua, il modulo si dovrebbe presentare, in questo modo, vuoto, immaginate ad esempio, di dover inviare questo file, per posta elettronica, ad un cliente, il quale dovrà, rimandarvelo indietro, però compilato con i suoi dati, intanto, questo cliente, quando proverà a cliccare, fuori da questi campi grigi, che sono stati predisposti, per la compilazione, ecco, per esempio, provo a cliccare qui in cognome, come vedete, il cursore non si posiziona, anche qua, va sempre a finire vicino ai campi grigi, perché il cliente deve poter scrivere, solo nei campi da compilare, e non può cambiare, il resto dell'impaginazione del testo, quindi nel momento in cui, comincio a compilare, per passare da un campo all'altro, non c'è nemmeno bisogno di usare il mouse, ma posso, premere il tab, sulla tastiera, come appunto, quando compilo dei moduli su internet, e continuare nella mia compilazione, molto velocemente, usando il tab, e scrivendo solo su tastiera. Quando poi arrivo alla scelta della città, piuttosto che scrivere a mano, ho voluto inserire un elenco a discesa, anche questo molto utile in molti casi, in maniera da limitare la scelta della città, solo ad alcune in elenco, e non lasciare un inserimento libero, quindi scelgo barletta, ed in più, ho un campo, una casella di controllo, che si può spuntare o meno, quindi un campo sino, per dire se sono coniugato o meno. Ovviamente, finito questo, io poi posso salvare il modulo, e reinviarlo per posta al mittente. Quindi anche questa cosa dei moduli, è una cosa molto importante, che viene studiata nel corso avanzato. Gli argomenti che vi ho presentato, sono solo pochi, sono solo alcuni di quelli che si spiegano nel corso, diciamo che questo video l'ho fatto un po' per farvi venire la cuolina in bocca, e invogliarvi ad iscrivere al corso avanzato, mi scuserete per questa pubblicità che ho voluto farvi, spero comunque di aver realizzato un video interessante. Arrivederci al prossimo video tutorial. Grazie a tutti.